Siamo parlati a lungo con tutti i ragazzi, insieme al comandante dei vigili e a due assessori, in maniera che si capisse bene che da parte nostra non c'è un affeggiamento persecutorico. D'altra parte il problema della legalità, della vendita di merce contraffatta, di una condizione nella quale questo sistema si sta radicando in tutta Italia è un problema che va affrontato. Su questo ovviamente c'è stata da parte nostra una disponibilità a discutere su tavoli, su occasioni che si possano creare, però io insisto, il tema della legalità è un punto sul quale un comune non può derogare. Su questo noi abbiamo una volontà di discutere con loro, che ci saranno occasioni diverse, possibilità, elementi della formazione, però insisto, il problema vero è che ci sia chiarezza da parte degli organi che sono preposti verso il tema del permesso di soggiorno e su questo ovviamente puoi costruire una possibilità di permanenza nella misura in cui ovviamente lo consente la fase economica.